Benvenuti ad A Noi la Linea, rubrica radiofonica a cura dei ragazzi della CR della Diocesi di Gaeta. Oggi parleremo del nostro gruppo 12-14, della parrocchia di Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia. Siamo un gruppo di ragazze di terza media, alcune di noi hanno ricevuto la crisima a novembre e altre la riceveranno a maggio, però abbiamo deciso di continuare insieme il nostro cammino. Io mi chiamo Gaia e vado alla CR da quando ho sei anni. Ho scelto di frequentare la CR inizialmente per gli altri bambini, ma andando avanti col tempo ho continuato a frequentarla perché mi fa sentire felice e vedere qualcuno in questo periodo di pandemia mi fa stare bene. Un saluto da Gaia e passo la parola ad Anna Lisa. Ciao a tutti, vado alla CR da quando avevo 4 anni. Con gli anni ho capito che mi piaceva e per questo ho deciso di continuarsi ad andare. Mi piace stare in compagnia di altre persone, soprattutto in questo periodo particolare. Mi trovo bene con le ragazze del mio gruppo perché abbiamo tutte la stessa età e abbiamo creato un bel legame tra di noi. Il tema di quest'anno è il giornalismo e ad esempio, l'ultima volta, abbiamo confrontato degli articoli di giornale e abbiamo espresso le nostre opinioni. Ora passo la parola a Giorgia. Eccomi, grazie Anna Lisa. Io vengo alla CR da tanto tempo, a me piace molto venirci. All'inizio ci venivo con le mie amiche e poi ci siamo separate perché loro sono andate nel gruppo di ministranti, io invece no. E non mi sono pentita di questa scelta perché siamo un bel gruppetto e ci divertiamo sempre. Nonostante questo periodo difficile a causa del Covid non ci siamo arrese e per cercare di vederci abbiamo organizzato degli incontri online e ci siamo divertite lo stesso. Io ho finito, un saluto da Giorgia, passa la mia Ilaria. Ciao, io frequento la CR da più di tre anni. Mi piace venire alla CR perché facciamo sempre belle esperienze, come ad esempio l'esperienza del campo scuola, che si ripete ogni estate, in cui siamo lontani da casa per qualche giorno ma ci divertiamo moltissimo, oppure la festa del ciao, che si ripete ogni anno, dove balliamo e cantiamo e in cui, prima del Covid, abbiamo anche ricevuto un premio. Non vediamo davvero l'ora di poter rivivere questi momenti, ma adesso passo la parola a Linda. Eccomi, grazie Ilaria. Ciao a tutti, io sono Linda, ho quasi 14 anni e vi spiegherò perché mi piace andare alla CR. Fino a quasi due anni fa io non sapevo che cosa fosse la CR perché andavo ai ministranti. Poi però mi resi conto che quasi tutte le mie amiche la frequentavano e perciò provai anche io. Appena iniziata mi sentivo un po' in disagio, anche perché c'erano dei ragazzi più grandi di me, ma poi con il passare del tempo mi ambientai ed ogni volta che ci andavo per me era un continuo divertimento. Purtroppo per questa situazione del Covid non ci sto andando molto spesso, ma sono sicura che quando finirà tutto questo ci continuerò ad andare perché è veramente un gruppo molto bello e divertente. Grazie a tutti per avermi ascoltato, passo la parola ad Alexandra. Eccomi, io sono l'ultima arrivata, frequento la CR da circa un anno e nonostante abbia fatto l'agresima a fine novembre 2020 ho deciso di continuare il mio percorso con il gruppo 12-14. Non me ne sarei mai potuta andare perché le ragazze che lo compongono sono fantastiche, con loro sto bene e mi diverto tantissimo. Ci conosciamo da poco e non abbiamo vissuto molte esperienze insieme, ma posso dire con certezza che adesso anche io faccio parte di questo mitico gruppo. Ciao da tutto il gruppo a CR della parrocchia Santi Lorenzo e Giovanni Battista. A presto! Grazie a tutti!